ciao a tutti siamo nello studio dentistico della dottoressa gadaleta a bari qui in puglia e a fianco a me la dottoressa alessia olivieri specializzata in psicoterapia attitudinale alla poltrona odontoiatrica sai che di oggi è l'impianto in sette minuti con le tecniche innovative però prima una curiosità dottoressa perché lei è specializzata in psicoterapia attitudinale e che cos'è salve a tutti grazie a se che web tv parlavamo della psicoterapia attitudinale alla poltrona allora mi sono specializzata in psicoterapia attitudinale alla poltrona odontoiatrica perché avevo bisogno e sentivo la necessità di far sentire il paziente sicuro infatti quando i nostri pazienti entrano nel nostro studio io penso che il paziente deve sentirsi amato e coccolato come facciamo a produrre questa sensazione nel paziente cercando anche grazie alla tecnologia tutti i sistemi più diversi per poter far sentire il paziente a proprio agio il paziente quando entra nello studio non deve sentire gli odori tipici dello studio dentistico non deve sentire i rumori magari che possono venire dal riunito quindi dalla turbina dal micromotore i tipici rumori diciamo che spaventano e che danno fastidio anche i più piccoli anche i bambini infatti mi piace molto adoperare queste nuove tecniche queste innovazioni soprattutto sui più piccoli che essendo giovani essendo piccolissimi diciamo nell'entrare in questa in questa sfera che è la nostra sfera dell'odontoiatria hanno hanno molto timore non si parla di paura mai davanti a loro però hanno molto timore perché non riescono a capire cosa accadrà invece avendo questo approccio completamente diverso con loro spieghiamo dall'inizio dalla prima visita appunto spieghiamo tutti i passaggi su come sarà la visita e poi su come sarà il loro trattamento il paziente il bambino l'adulto l'anziano può comodamente sedersi sul riunito sulla nostra poltrona ed essere proiettato possiamo dire così in un'altra atmosfera quindi utilizzando eccoli qui i nostri occhiali il paziente sarà così proiettato in un'altra realtà come questo con la realtà virtuale quindi vedranno una spiaggia un tramonto qualsiasi cosa un acquario qualsiasi cosa appunto proiettabile sulla nostra sul nostro apparecchio è che sederà molto l'ansia nei nostri pazienti quindi riusciranno a proiettarsi in un'altra realtà e a cercare appunto di rilassarsi e a sedare questa ansia importante che i nostri pazienti purtroppo hanno quindi l'utilizzo delle cuffie ci può essere d'aiuto l'utilizzo appunto dell'apparecchio del del suono sono tutti apparecchi della tecnologia che ci entrano ci ci aiutano ci appoggiano in questo campo nel campo dell'odontoiatria che non sono appunto utilizzati e non erano utilizzati prima però noi vogliamo proporre diciamo al paziente un nuovo metodo che è quello del relax della tranquillità oltre alla tecnologia anche la romaterapia e la cromoterapia sono studiate e posizionate in modo tale da permettere ai nostri pazienti il benessere grazie che figata quindi ci sono anche le innovazioni nelle impianti e quali sono anche la stessa terapia implantologica è pensata al giorno d'oggi in modo completamente diverso perché questo perché noi utilizziamo delle tecniche innovative anche nella implantologia perché l'impianto nel paziente viene fatto tutto al computer ebbene sì solo con l'apparecchio del computer al giorno d'oggi ci avvaliamo di sofisticate apparecchiature che servono a posizionare la tac del nostro paziente direttamente sul software quindi questa tac con bin che il paziente effettua prima di fare l'impianto prima dell'intervento successivamente noi posizioneremo questa tac con bin all'interno del nostro software in modo tale da posizionare virtualmente già l'impianto del nostro paziente nell'osso cioè in bocca nel cavo orale del nostro paziente con la computer assistita al giorno d'oggi è cambiato tutto perché inserendo la tac con bin del nostro paziente all'interno del programma posso appunto inserire l'impianto direttamente nel paziente quindi questa che vi sto facendo vedere è una dima chirurgica che cos'è la dima chirurgica è utilizzata per poter inserire l'impianto come l'ho già inserito sul computer quindi non c'è margine di errore non c'è molto sanguinamento perché non viene fatto l'utilizzo del bisturi non vengono utilizzati i punti di sutura non viene utilizzato nulla di tutto questo ma bensì è una chirurgia tra virgolette fatta appositamente con questa dima chirurgica dove all'interno di questi forellini viene inserito l'impianto dove ci sarà appunto osseo lontano dal nervo e soprattutto vedremo appunto la posizione esatta di dove andrà l'impianto e poi nell'inserire direttamente l'impianto nel paziente sarà molto semplice appunto io dico soltanto di sette minuti perché è già stato costruito è già stato fatto tutto al computer con il nostro software successivamente al nostro intervento il paziente può svolgere tutte le attività quotidiane quindi può tranquillamente tornare a casa senza il viso gonfio senza echimosi sul viso come normalmente era senza dolore e quindi è tutta una terapia possiamo dire indolore dottoressa indolore ma come è possibile indolore sì perché la nostra anestesia è senza ago secondo la società italiana di odontofobia il 15 per cento della popolazione italiana soffre di odontofobia quindi il paziente chiaramente è molto come dicevamo prima è molto spaventato e timoroso all'entrare e a sottomettersi ad un intervento appunto chirurgico quello degli impianti o anche ad un intervento proprio di routine dicevamo quindi che è un'anestesia senza ago perché questo è diversa dalle anestesie tradizionali perché cambia tutta la tipologia di come viene posizionato l'anestetico nella bocca del paziente quindi è un'anestesia sempre intraligamentosa che viene posizionata vicino al dente che noi dobbiamo andare a curare può essere utilizzata anche su tutta l'arcata del settore quindi sui settori anteriori sui settori posteriori oppure su tutta proprio l'arcata del nostro paziente è un'anestesia diversa perché viene posizionato all'anestetico con questo computer con cosa come se fosse un contagocce perché l'anestetico invece di essere sottoposto alla mano diciamo dell'odontoiatra è sottoposto alla mano diciamo così del computer verrà iniettato nel paziente come se fosse un contagocce il paziente non avvertirà il dolore dell'anestesia e neanche l'ago appunto dell'anestesia comunemente usato dottoressa ma non ho capito non c'è proprio ago esattamente perché come dicevamo non c'è un ago vero e proprio appunto questa come potete vederla nella mia mano è la siringa che viene utilizzata sui pazienti quindi l'ago è minuscolo appunto è piccolissimo è come se non ci fosse e non viene iniettato all'interno della gengiva del nostro paziente dottoressa ma anche chi ha la piorea può mettere gli impianti certamente sì e questi pazienti possono effettuare il tutto in tutta sicurezza se il paziente chiaramente viene dal dentista periodicamente e fa i controlli corretti per evitare appunto infezioni anche sugli impianti chiamata per esempio la perimplantite può tranquillamente effettuare la terapia prima antibiotica e poi seguire con l'intervento quindi può fare tutto in tutta sicurezza e avere anche un post operatorio molto sereno quindi non avrà come dicevo prima echimosi faccia gonfia e potrà appunto svolgere le normali attività quotidiane grazie mille dottoressa alessia olivieri per averci informato delle tecniche innovative impianto in sette minuti e l'anestesia computerizzata ringraziamo anche lo studio dentistico della dottoressa gadaleta per averci ospitati grazie a voi di sai che web tv e un saluto a tutti e quelli che ci stanno guardando per qualsiasi domanda potete iscrivere nel canale grazie grazie sai che può interessare o coinvolgere anche te grazie a tutti